Devo migliorare il comfort per non subire le intemperie. Come calandra uso il gancio traino del furgone. Uso un remo come leva. Piove alla grotta del bue marino. Io ho il mio parabrezza che mi ripara dal freddo, dal vento, dalla pioggia, dagli schiffi. Solo che si vede poco. Bisogna stare molto attenti a non speronare qualcosa. Mubifragio a cala gonone. Con queste onde mi viene una rasatura poco precisa. Tutte che attiva! Tutte che attiva! Tutte che attiva!